Ciao! Oggi come leggete dal titolo un nuovo video Get Ready With Me. Non è passato tantissimo tempo dall'ultimo che vi ho fatto e vi lascio nelle schede qui in alto il video se non l'avete visto, però ho fatto altri danni, ho acquistato altri nuovi prodotti di cui ancora non vi ho parlato e appunto di nuovo un Get Ready With Me. Non so, a me piacciono tantissimo come tipologia di video, quindi li guardo molto volentieri e li filmo molto volentieri. Fatemi sapere se invece a voi annoiano, magari sotto nei commenti. Comunque, inizio da le labbra, da preparare le labbra con uno scrub, i nuovi prodotti di Mulac della linea Skin Care. Io ho acquistato maschera idratante, scrub, un lip balm colorato, io ho preso ovviamente quello più neutro, e un lip balm completamente trasparente, ho preso la versione normale, non ho preso quella rimpolpante. Iniziamo dallo scrub che ho già testato, ed è questo qua, il Sugar Magic Lip Scrub, che appunto fa parte della linea Lip Care di Mulac, uscita qualche settimana fa ormai. Questo è il barattolino, ma appunto l'avrete visto in mille e milla video. Io ancora non vi ho fatto un video dedicato, perché appunto li sto ancora testando, specialmente il balm completamente trasparente, non l'ho ancora aperto perché sto finendo quello che ho già, quindi sto ritardando per quel motivo. Questo è lo scrub, ed è tipo blu, azzurro, un po' più duro rispetto a tipo quello di Lush che utilizzavo prima. Sapete, mi ricorda, ne prelevo intanto un pochettino, mi ricorda quello di Kiko uscito con una collezione passata di cui non ricordo assolutamente il nome, perché come consistenza è la stessa, quindi ha questi granuli all'interno, ma con anche una specie di idratante all'interno, quindi non si spacca come quelli di Lush che invece contengono solo i granuli, ma resta abbastanza compatto, non so come spiegarvi, e anche una volta utilizzato è strano, è tipo gelatinoso, quindi mentre lo applicate sentite anche questo gel idratante, e quindi non secca le labbra, cioè quando lo tolgo non sento le labbra tirare, non sento quel fastidio di labbra screpolate, ma anzi le lascio a belle lisce, belle scrabbate, un po' rosse, perché ovviamente la mia pelle è un po' delicata, ma poi anche il movimento le fa arrossare, però sì davvero è bello come effetto, non mi fa impazzire appunto la texture, perché io preferisco qualcosa di più granuloso, non so come spiegarvi. Ora, procediamo con la base, ho acquistato diversi prodotti di Milk, sempre in Minitalia, Milk come sapete è arrivata finalmente da Sephora Italia, però non tutta la linea, infatti è una cosa che un po' mi è dispiaciuta, perché ad esempio il fondotinta, la cipria, il correttore, che erano i prodotti che più mi interessava provare, non ci sono ancora su Sephora Italia, ma sono solo su Cal Beauty, solo che Cal Beauty non spedisce i prodotti Milk in Italia, e non capisco perché, cioè è un sito che solitamente spedisce in Italia, ma i prodotti Milk non li fa arrivare, non lo so, non l'ho capita questa cosa, quindi non ho potuto provare anche i prodotti che più mi interessavano. Nel frattempo però ho preso il Blur Stick Sheer Matte Primer, il famosissimo primer in stick di Milk, che dovrebbe andare a mimetizzare i pori dilatati e allo stesso tempo a mantenere l'effetto opaco per più tempo. Una cosa fastidiosissima di questi stick, scusatemi ho toccato il microfono, è questa parte qua, praticamente è bellissima da vedersi come Minitalia, è stupendo come prodotto, però qui come vedete ha una plastichina trasparente che serve per proteggere il prodotto, e io non la butto perché da quello che ho capito conviene tenere questo cosino in plastica, perché altrimenti il prodotto potrebbe seccarsi più velocemente. Il problema è che ogni volta per togliere... Ah no, stavolta ci sono riuscita il primo tentativo, solitamente quando non registro ci metto 30 anni a toglierla, infatti mi dava particolarmente fastidio per quel motivo, perché ogni volta metterla a togliere era un casino. Questo appunto l'ho già provato un paio di volte, mi piace come lascia la pelle, però sinceramente non ho ancora riscontrato questa grande diversità tra un lato e l'altro. Ora lo riproviamo insieme, però ecco, devo ancora capirlo, devo ancora testarlo come prodotto. Lo applico solo da questo lato, così magari cerchiamo più che altro di vedere una differenza. Quello che noto fin da subito, che ho notato fin da subito, è che sicuramente opacizza di più la pelle, io non so se vedete la differenza, qua è più opaco rispetto a qui. Ora, passiamo al fondotinta, sì, sto cercando di andare con ordine per non dimenticarmi niente, e ho acquistato il nuovo fondotinta di Bourjois, l'Always Fabulous Extreme Resistant Full Coverage Foundation, nella colorazione 120 Light Ivory, l'ho preso su Maki Beauty, il nuovo Maki Beauty, che è un sito spagnolo, ho visto che c'è anche da tigotà nella mia zona, solo che i prezzi sono davvero davvero esagerati, sono, se non il doppio, quasi più alti rispetto appunto a Maki Beauty, quindi ho voluto acquistarlo su online, perché risparmiamo davvero davvero tanto, l'ho pagato all'incirca 10, di nuovo, scusatemi, l'ho pagato all'incirca 10 euro, e si poteva fare, ecco. Anche perché con tutti i fondotinta che ho acquistato ultimamente, un altro non mi sarebbe servito in teoria, però sono stata molto tentata dalla descrizione full coverage, quindi è già la seconda volta che lo provo, se non erro, sì, l'ho un paio di volte, e devo ancora capirlo, proprio come prodotto di Milk, intanto ne prelevo un pump per ora, non lo so se mi piace o se non mi piace, sicuramente non è a livelli di quello di Anastasia, cioè quello di Anastasia rimane ancora il mio preferito, ho un pelo di Cuba, scusatemi. Il colore va abbastanza bene, tende un po' a ossidarsi, anche qua, quindi non è proprio perfetto, perfetto, però non è neanche tremendo, ecco, lo posso utilizzare tranquillamente anche da solo. Ok, intanto questo è l'effetto del fondotinta, e non so se lo vedete, ma non è completamente opaco, infatti è un po' un satinato come finish, questi sono due pump, con il pennello, e non so, io non lo definirei proprio full full coverage come fondotinta, perché comunque i rossori che ho qua si intravedono ancora, e anche un po' intorno al naso si intravedono, quindi è un fondotinta dalla media coprenza, con un finish satinato, un effetto che comunque non mi dispiace, perché non segna particolarmente le zone secche del mio viso, non segna particolarmente i pori dilatati, è comunque carino, però ecco, niente di wow, ad esempio sto provando ultimamente il fondotinta di Urban Decay, mi sono fatta dare un campioncino da Sephora, e mi piace molto di più l'effetto di quello lì rispetto a questo, ecco, bello, ma con tutti i fondotinta che sono usciti ultimamente, non è niente di che, secondo me. Ora, procediamo con queste maledette occhiaie, ok, utilizzo sempre questo qua di Catrice, il Camouflage Cream, nella colorazione 025, per contrastare leggermente il bluastro delle mie occhiaie, e ora per illuminare, anche se non è un vero e proprio correttore illuminante, perché la colorazione è troppo scura, ho acquistato sempre di Bourjois, il nuovo correttore, che è l'Always Fables Full Coverage Concealer, nella colorazione 200 Vanille, però li ho visti appunto dal vivo, e la colorazione prima era troppo chiara e troppo rosata, quindi ho fatto bene ad acquistare questo qui, anche se, vi ripeto, si ossida e non è del tutto adatto al mio colore di pelle, però ecco, diciamo che la combo dei due non mi dispiace, proprio perché riesco a coprire abbastanza bene le mie occhiaie, senza fare quell'effetto troppo troppo luminoso del contorno occhi, che sapete non è un effetto che a me personalmente piace parecchio, proprio questo stacco. Vedete che comunque risulta un po' scuro nel complesso, un po' forse troppo giallo, quindi vado a sistemare un po' questa cosa con la cipria di Jeffree Star Cosmetics, nella colorazione Translucent, che come vi ho detto nel video precedente, che vi lascio sempre nelle schede qui in alto, comunque a fine video trovate tutto, sbianca leggermente, specialmente se fate baking, mentre per il resto del viso utilizzo questa qua di Mulac, con un pennello molto ampio, ne vado proprio a prelevare poca poca, giusto per fissare il fondotinta. Quindi questo è l'effetto della base fissata, magari vi faccio una ripresa leggermente da più vicino, si riesce a capire qualcosa? Non lo so, comunque questo è l'effetto, che vi ripeto, tutto sommato non è male, però non è neanche nulla di mai visto, mentre il correttore mi piace come texture, mi piace come si comporta sul mio contorno occhi, per ora, anche qui devo provarlo, devo testarlo meglio, l'unica grossa pecca sono le colorazioni, davvero imbarazzanti per carnagioni chiare come la mia, probabilmente tornassi indietro, non lo riacquisterei proprio per i colori. Ora, siccome che devo ancora fare tutto il resto del makeup, ho deciso di mostrarvi l'altro prodotto di Mulac, della Lip Care che ho acquistato, il Tinted Lip Balm, Balsamo Labbra Colorato, nella colorazione 03 Hydra Nude, questa appunto è la confezione esterna, questo è lui, che ho già testato una sola volta, infatti è leggermente consumato, quello che mi ha stupito fin da subito è che è davvero pigmentato per essere un nude, e per essere un Balsamo Labbra, ed è vero che potete giocare tranquillamente con l'intensità, io sto facendo più passate perché comunque mi piace come colore, quindi lo voglio abbastanza intenso, però se a voi non fa impazzire come colore, ma volete solo un po' di idratazione, le labbra leggermente colorate, potete tranquillamente anche fare una sola passata, quindi questo è l'effetto, e resta comunque nude, comunque abbastanza tranquillo, però vi ripeto, è presente, cioè io vedo che ho qualcosa sulle labbra, non è uno di quelli Balsamo molto trasparentini, molto gna gna, è bello, proprio, non so, mi piace davvero tanto come effetto, e specialmente come colore. Ora, intanto appunto che le labbra si idratano, procediamo con la base, concludiamo la base, e utilizzo le mie solite terre di Mulac, quindi ipno per scolpire, e ade per riscaldare leggermente, come blush ho sempre uno di Milk, ed è il Lip & Cheek Creamy Sheer Blush, nella colorazione Work, sempre in Minitalia, questo non l'ho mai provato, quindi è proprio la prima volta, e lo voglio testare proprio su una base settata, perché se si comporta bene con una base settata, vuol dire che senza cipria è proprio perfetto, quindi io solitamente questi blush in crema, li utilizzo comunque su una base settata, applicandoli con un pennello, due fibre, che vi farò vedere dopo, quindi sto facendo proprio come farei solitamente, il colore sembra scuro, ne applico sempre un po' sulla mano, sapete che io faccio sempre questa cosa, no, in realtà no, sembra più scuro dallo stick, in realtà è un bel bel colore, e vado con il Real Techniques Stippling Brush, per applicarlo, dà un effetto molto molto delicato, in video sembra più accentuato, invece dal vivo è proprio molto molto naturale, come colore, come finish, anche perché resta leggermente appiccicoso, non troppo idratante, almeno su una base settata, non è troppo troppo idratante, però è leggermente luminoso, cioè si vede che non è un blush in polvere, ma che è appunto un blush in crema, non mi ha neanche spostato la base, non vedo proprio macchie, anzi si è amalgamato molto molto bene, con il resto della base, mi piace, vi ripeto, mi piace davvero tanto come effetto, mentre, passando all'illuminante, ho sia questo qua di Milk, che ovviamente andremo a provare, ed è il colore Lit, l'Highlighter Multi Use Creamy Highlighter, questa è la confezione, che si differenzia rispetto all'altra, perché questa è bianca, il blush è grigio, mentre il primer è trasparente, e sono troppo carine messe vicine, cioè sono stupende, il colore, anche qui mi sembra tantissimo scuro dallo stick, ma in realtà è quasi impercettibile sulla mia pelle, è un dorato con del rame all'interno, un colore molto strano, che non avevo ancora, ha una profumazione buonissima, anche il blush aveva un profumo, mentre il primer non ci ho fatto particolarmente caso, però sono buoni, perché comunque lo senti solo se annusi lo stick, mentre quando lo applichi non lo senti più, questo rimane leggermente più sticky rispetto al blush, però c'è da dire che ne ho applicato anche di più rispetto al blush, infatti queste sono 3-4 passate, e comunque dà un effetto molto molto naturale, si è fuso molto bene anche lui con la mia pelle, senza creare strane cose alla base fissata, al fondotinta non è andato a dividere, ma appunto dà proprio un bel bel effetto, si nota ma non è quel notare eccessivo, non so come spiegarvi, mentre dall'altro lato andiamo a provare le novità di Nabla, che mi sono arrivate in questa confezione, ma ve la farò vedere meglio in un video dedicato, perché comunque ve ne voglio parlare più nel dettaglio, però siccome mi è arrivata ieri non vedo l'ora di provarli, quindi almeno un illuminante lo proviamo oggi, e poi martedì quando avrò visto anche l'altro illuminante che mi interessava, che non ho acquistato subito perché appunto voglio vederlo prima dal vivo, ne parleremo più nel dettaglio, tra l'altro fatemi sapere se avete domande, se avete curiosità di confronti con questi illuminanti, io vi dico che ho preso Ozone, che è quello che utilizzeremo oggi, sì, Amnesia e Truff, questo appunto è Ozone, in questa confezione, che se non erro è esterna, sì è tipo la confezione degli Shade & Glow, uguale, questa qua, mentre questo è il vero e proprio pack, che devo dirvi non mi dispiace, non mi fa neanche impazzire, non è la prima cosa che ho notato di questi prodotti, però ecco, non mi dispiace, mentre lui è il protagonista, sembra meraviglioso, l'unica cosa è che ho visto nel video di Daniele, che lui consiglia su una base non del tutto settata, io ora setto sempre la base, prima di applicare blush e illuminante, perché mi trovo meglio a sfumarli e a lavorarli, quindi ora lo proviamo su una base settata, in caso non dovesse funzionare, o in caso non mi piacesse l'effetto, bagniamo con un setting spray, e poi appunto utilizziamo di nuovo l'illuminante, cosa che faccio solitamente, se voglio un illuminante più intenso, è una cosa che faccio spesso, e l'avete vista anche in, c'è un pelo di cua ancora qui, che l'avete vista anche in altri video, quindi ora cerco il pennello di Nabla, che ho trovato, quello della collezione The Nude, di qualche anno fa, forse due anni fa, non lo so, quindi questo è l'effetto di Ozone, applicato con all'incirca tre passate, su base settata, il colore per la mia carnagione è perfetto, però se siete leggermente più scure di me, potrebbe crearvi una specie di macchia bianca, perché appunto contiene un po' di bianco all'interno, per un fantasmino come me, però è perfetto come colore, l'effetto che dà sul viso, io vedo dall'anteprima della videocamera, che in video risulta più intenso, più luminoso, rispetto a quello che vedo io dal vivo, dal vivo è comunque bello come effetto, si nota, ma resta comunque naturale, non è ad esempio cookie di Benefit, che vi ho mostrato appunto nel video, Get Ready With Me, passato, che subito dalla prima passata, era davvero tipo luce pura, questo è più naturale, però anche Daniele, vi ripeto, l'ha detto, non mi sento, non sento la necessità di bagnare il pennello, o di bagnare la base, perché a dire il vero, mi piace anche questo effetto, estremamente naturale, adesso che sono passati diversi minuti, noto che proprio, è come se sia ancora più fuso, nella pelle, è ancora più sottile, è ancora più naturale, come finish, come effetto, quindi, mi piace parecchio, anche così, devo essere onesta, non pensavo, cioè, pensavo di dover bagnare il pennello, per ritenermi soddisfatta, in realtà, anche così, mi piace davvero, davvero tanto, poi appunto, la texture è molto sottile, per davvero, non fa spessore sul viso, quindi, nel complesso, mi sta piacendo, come prodotto, però appunto, ne parleremo prossimamente, ora, dato che la base è completata, e dato che io sto sempre più, avendo caldo, mi sto squogliando, direi di velocizzare un po' il tutto, e passiamo alle sopracciglia, mi è arrivato anche in questo caso, ieri, un pacchetto da WeMakeup, l'unica azienda che mi calcola, praticamente, che mi invia le sue nuove uscite, infatti appunto, mi sono stati inviati da WeMakeup, e ringrazio tantissimo l'azienda, sono i nuovi prodotti per sopracciglia, che usciranno il 21 di ottobre, lunedì, non so quando vedrete questo video, ma probabilmente lo vedrete lunedì, quindi se lo starete vedendo lunedì, sono già disponibili sul loro sito, a me hanno inviato due colori, e il pennellino per applicarlo, il pennellino è fatto in questo modo, quindi da un lato c'è il pettinino, per pettinare le sopracciglia, e per sfumare il prodotto, mentre dall'altra parte, c'è il pennello per applicare, questo gel, e ha una sezione anche abbastanza sottile, come vi ho fatto anche vedere su Instagram, è tipo in soft touch qua, nero, mi piace come pennello, ora staremo a vedere se riuscirà anche ad applicare bene questi prodotti, che sono loro, i Dear Brow Gel, io ho due colori, che sono il numero 02 e 04, vi scriverò i nomi al di sotto, sotto nell'infobot, perché sono davvero impronunciabili, sono lunghissimi, sono fatti in questo modo, questo è il pack, e hanno un applicatore stranissimo, perché questo ve lo devo far vedere, non ho mai visto un applicatore fatto in questo modo, che non è un vero e proprio applicatore, non so se lo vedete, ma in mezzo ha tipo un buchetto, è tipo un cucchiaio, e quel buchetto raccoglie il prodotto, in modo che voi possiate andare poi con il pennellino, a intingere direttamente in quella zona, e prelevare il prodotto, praticamente sono delle pomate, per sopracciglia, dei pot per sopracciglia, hanno lo stesso concetto, le stesse promesse, ma appunto in formato liquido, questi sono i colori che possiedo, quindi lo 02 che è quello più chiaro, lo 04 che è quello più scuro, io andrò a fare un mix delle due, perché lo 04 che è quello che potrebbe, andare bene per le mie sopracciglia, come sapete io preferisco invece schiarirle, di mezzo tono neanche, comunque non amo l'effetto troppo scuro su di me, non l'ho ancora provati, è proprio la prima prima volta, perché vi ripeto mi sono arrivati ieri, quindi speriamo di non fare troppo casino, perché mi conosco e solitamente, con le sopracciglia io non vado molto d'accordo, più che altro non mi piacciono le mie sopracciglia, ma proprio per niente, questo è il mix delle due, forse ho utilizzato troppo poco marrone e scuro, ne vado a mettere una puntina in più, e questo vi fa anche capire, che potete tranquillamente modularli, a vostro piacimento, ok, forse così ci siamo, mi soddisfa, non so se vedete la differenza, rispetto a prima, c'è da dire che, come vi dico sempre, io non ho delle sopracciglia da rifare completamente, ma devo solo andare a sistemare qualche buchetto, quindi questo è l'effetto, tra le due sopracciglia, vado a fare anche l'altra, vado a fare giusto la parte davanti, solo con la colorazione più chiara, quindi la prelevo direttamente dall'applicatore, così vediamo anche, come funziona così, quindi questo è l'effetto delle due sopracciglia, io spero che possiate apprezzare la differenza rispetto a prima, perché comunque io le ho sfumate molto bene, le ho rese il più naturali possibili, proprio perché non mi piace l'effetto troppo definito, specialmente in questo ultimo periodo, e devo dire che non mi dispiace, specialmente il pennellino è perfetto, per questo genere di prodotto, perché è molto sottile, quindi ti rende il lavoro più semplice, anche nella parte iniziale, del sopracciglio, quindi comunque volendo, se avete tempo, se avete un po' di pazienza, potete anche renderle ancora più naturali, per farle proprio quell'effetto pelo pelo, io sinceramente non ho tutta questa pazienza, quindi sono andata semplicemente a riempirle, e non mi dispiace, anche i colori mischiati insieme, sono perfetti per quanto mi riguarda, perché vi ripeto, non risultano troppo troppo intense, non risultano troppo intensi, non risultano troppo alla helio, come in un vecchio Get Ready With Me, con il prodotto di L'Oreal, non so se avete presente, ecco, non risulta quell'effetto orribile, ma tutto sommato, non mi dispiace, poi, tralasciate il fatto che questa sopracciglia, è migliore rispetto a quest'altra, perché non so, la forma mi piace molto di più, però, tutto sommato, ecco, non mi dispiace, tra l'altro, ho fatto fatica a rimuovere, quindi, presuppongo abbiano anche un'ottima durata, poi vi terrò aggiornati ovviamente nell'infobots, su Instagram, nei prossimi giorni, non sono neanche estremamente dure, perché con questo genere di prodotto, con le pomate, solitamente, se andate proprio a riempire, il pelo si indurisce, in realtà, questo è abbastanza morbido, comunque, tornando a noi, passiamo agli occhi, ho acquistato sempre dal sito Maki Beauty, questa palette di Technique, la Be Fearless, spero si dica così, una palette che in realtà, guardavo da un po', su questo sito, perché mi ricorda, non so se ricorda anche a voi, la Born to Run, non il packaging esterno sicuramente, ma all'interno, mi ricorda la Born to Run di Urban Decay, una palette che mi è sempre piaciuta, per le colorazioni all'interno, ma che non mi sono mai decisa di acquistare, perché ho già 3000 palette, e solitamente quelle di Urban Decay, non rientrano tra le mie preferite, non so perché, sarò probabilmente l'unica al mondo, ma appunto, preferisco quelle di Anastasia, o anche quelle di Huda, però appunto, quando ho visto questa, che costava all'incirca 10 euro, qualcosa di più, ho voluto provarla, è la prima volta, è ancora nuova, andrò a utilizzare un primer, come al solito, e vi metterò questa clip, velocizzata, perché so già che, questo video sarà durato un'eternità. Inferno Musica Quindi questo è il trucco occhi completo, diciamo che mi sono lasciata un po' prendere la mano, sono andata abbastanza pesante, sono andata ad aggiungere anche un punto luce nell'angolo interno perché secondo me ci stava e ho utilizzato lui, però ho bagnato. Cosa ne penso di questa palette? Allora, gli opachi mi piacciono tantissimo, si sono sfumati molto bene, sono molto modulabili, non sfarienano particolarmente mentre li prelevi nella cialda, un pochettino sì, ma non in modo eccessivo. Gli shimmer sono quelli che mi hanno lasciato un attimino delusa perché innanzitutto devono essere per forza utilizzati bagnati e nonostante questo se vai un po' a sfumarli perdono lo stesso di luminosità, tipo qui è meno luminoso di già rispetto a questo lato, non so se in video renderà mai questa cosa, quindi mi riservo un attimino perché voglio testare anche gli altri, però ecco, per ora mi sono piaciuti molto di più gli opachi rispetto agli shimmer metallizzati di questa palette. Ora, procediamo e concludiamo questo video infinito con le labbra, rimuovo il balsamo labbra di Mulac o almeno quello che ne è rimasto e provo a utilizzare Attractive, sempre di Nabla, faceva parte di una collezione natalizia, se non erro, di un kit, non so se potete ancora trovarlo. Quindi, questo è il risultato del trucco, quello che è uscito fuori oggi con questi prodotti. Una cosa che mi stavo dimenticando di dirvi di questa palette è che lo shimmer, specialmente quando sono andata a prelevarlo e applicarlo con il dito, ha fatto molto molto fallout, proprio perché hanno una texture parecchio polverosa questi shimmer, infatti anche utilizzato bagnato ha comunque fatto spessore sulla palpebra, sembra quasi un effetto di carta in carta pecorita, dovete dosarli molto questi shimmer e utilizzarli fin da subito bagnati senza far strato come ho fatto io, però vi ripeto, ecco, nel complesso non mi dispiace quello che è uscito fuori. Non vi ho mostrato la maschera idratante notturna dei prodotti Lip Care di Mulac, perché appunto la utilizzo molto di più prima di andare a dormire, rispetto nel quotidiano prima di truccarmi, perché preferisco il Lip Balm. Questa faccio anche un bel strato spesso prima di dormire, proprio perché è molto molto idratante, anche qui è sempre blu e ha una profumazione come per lo scrub parecchio dolce, specialmente nello scrub secondo me si sente ancora di più questa profumazione e a me non dispiace, sapete che amo le profumazioni dolci, vanigliate, un po' biscottose. E poi per il resto comunque vi terrò aggiornati per i prodotti e anche per quanto riguarda la durata del prodotto sopracciglia di WeMakeup, insomma ne parleremo prossimamente nei video o su Instagram, come vi ho già detto. Io vi saluto, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia, ma specialmente vi sia stato utile vedere questi prodotti applicati, magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del trucco, dei prodotti, se li avete provati, oppure lasciatemi un mi piace se vi piace questa tipologia di video, se ne vorreste vedere altri. E noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!